E' scoppiato un incendio a Parigi, la capitale della Francia. La facciata di un palazzo che è vado a ospitare una scuola di musica è crollata e il sindaco proprio di Parigi è arrivato in loco. E' stata una tragedia in pieno rego, una facciata in fiamme, è crollata, tante persone bloccate purtroppo per colpa delle ingenti macerie presenti in loco. Ci sarebbero circa quattro feriti gravi, la sindaca di nome Anne Hidalgo ha fatto sapere che la situazione è abbastanza brutta, negativa e drammatica e i pompieri sono accorsi per andare a spegnere le fiamme e anche per andare a recuperare i relativi colpi. Intanto il bilancio provvisoio è di diversi feriti che si trovano in una condizione di pura emergenza. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, di cui è vincendio a Parigi e il ruolo della scuola. Dopo l'esplosione, quattro feriti gravi e diversi esseri, diversi esseri umani sotto alle relative macerie. Da narratori italiani è tutto, iscrivetevi se vi fa commentati. Ciao a tutti.